Il bersaglio preferito erano appartamenti signorili di professionisti in vacanza o momentaneamente assenti da casa, ma non si facevano scrupoli a mettere a segno colpi anche quando i proprietari si trovavano all'interno delle abitazioni. In tutto, dall'agosto al novembre del 2012 hanno messo a segno circa sei furti accertati, ma secondo la squadra mobile è maggiore il numero dei casi in cui i 14 arrestati nell'operazione filera hanno depredato abitazioni della zona nord e del centro storico della città. Puntavano direttamente alle casse forti che spugnavano proprio grazie all'arnese da scasso che è dato il nome all'operazione. Facevano razzia di preziosi, di denaro contante, prodotti elettronici ed informatici. Quasi tutti erano già noti alle forze dell'ordine proprio per reati contro il patrimonio. Molti di loro già si trovavano in carcere perché colti in fragrante proprio nel tentativo di mettere a segno un colpo. In carcere sono finiti i fratelli Giacomo e Giovanni Nunnari di 34 e 25 anni, il 34enne Giuseppe Villari, il 38enne Giuseppe Arena, il 54enne Pietro Ruggeri, il 29enne Tindaro Milazzo, il 31enne Luigi Veltri, tutti indagati per il reato associativo. Ai domiciliari sono finiti invece il 32enne Alberto Alleruzzo, il 28enne Giovanni Farinella, il 42enne Ivan Zoccoli, il 23enne Antonino Allia, il 38enne Giuseppe Arena. Per organizzare i colpi utilizzavano linguaggio criptato e facevano leva su basisti che avevano rapporti di fiducia con i potenziali bersagli, come ad esempio i loro collaboratori domestici che riferivano informazioni sullo stile di vita e i movimenti dei proprietari degli appartamenti. Tra i vari colpi messi a segno ho anche un furto alla casa di cura di Cristo Re, dove oltre a scardinare le macchinette della struttura ospedaliera avevano anche distrutto le telecamere di sorveglianza.